Buonasera da Milano tifosi Rosanero, Palermo appena arrivato nella sede del ritiro in vista della sfida dello stadio Meazza di domani sera contro l'Inter, 23 convocati di Giuseppe Iachini, assenti l'infortunato Roberto Vitiello così come Enzo Maresca, lo squalificato Andelcovic, Bentivegna e Machino. I occhi Rosanero sono partiti dall'aeroporto Falcone-Borsellino, volo diretto per Milano-Linate, l'atterraggio intorno alle 9, una cena veloce ma tanta concentrazione nei volti dei calciatori Rosanero in vista di un posticipo importante che il Palermo affronta con carte giuste per poter ottenere un risultato importante. Domattina palermocalcio.it vi darà le ultime notizie direttamente dallo stadio Meazza e poi naturalmente domani aggiornamenti durante tutta la giornata in vista di Inter-Palermo. Grazie.